Eddie? Perché non ci mangiamo qualche cattivo per merenda? Sono un predatore! Devo essere libero. Devi controllare la tua aggressività. O ci trascineranno nell'area 51. Vivi nel mio corpo o vivi secondo le mie regole? Scusa, non so cosa mi sia preso. Fammi recuperare. Mi spiace tornarsi su. Ma sei uno sfigato. Eddie Brock, voglio raccontarti la mia storia. La gente adora i serial killer. Cletus, perché io? Ciò che è mio è tuo. E ciò che è tuo è mio. Io ho già assaggiato il sangue. Quello non lo è. La sola cosa che desidero... ...è una carneficina. Non sono pazzo. Sono vendicativo. Oh, merda! Dove vai? È uno rosso! Devi uscire subito. Ti faccio mangiare... ...chiù che vuoi. Promesso? Promesso! Oh, sì! Eddie? Tu per me sei casa. Sei famiglia. Oh, wow! Basta dire sono contento per te. Dovevamo essere noi! Sono contento per te. No! Dio, scusa! Quale scusa? Quei due hanno bisogno di una terapia di coppia.